Procede spedita la campagna adesioni in vista dei campionati Wisp 2020-2021, 45 le formazioni già presenti in astri di partenza con il Mondo Over 40 che ufficializza la chiusura delle adesioni, 28 le compagini che hanno ratificato la propria partecipazione al Mondo Over 40, più uno rispetto al campionato 2019-2020, la rinuncia delle Pescara Smile, la creazione di A e B a 14 squadre, rende ufficiale due ripescaggi, Atletico Ponzio e La Zona in Serie A, decisione maturata in virtù della classifica cristallizzata a marzo 2020. Questa è la situazione di iscrizioni con i senior che attualmente si attestano a quota 17 con la bellezza di tre novità rappresentate da Tiki Taka Planet, Pescara Stadium e New Gunners. L'Over 40, come detto invece, chiude a quota 28 con volti nuovi che rispondono ai nomi di Pescara79 e Dupia Pub. La sede del calcio Wisp pescarese resterà chiusa fino al 16 agosto per poi tornare aperte al 17. Iscrizioni però aperte per la categoria senior, per info via email all'indirizzo wispmagazine-gmail.com oppure il numero di telefono è la seguente 334 25 93 776.